Ciao a tutti da Cugola Green Center, oggi vi voglio parlare di questo bellissimo trattore rasaerba Kubota modello F391, macchina molto potente, veloce e versatile. Si esaltano queste tre caratteristiche soprattutto quando si hanno delle situazioni di lavoro molto difficile e intensive. Questo prodotto è decisamente orientato verso un utente professionista ma non solo. Questa macchina potente perché monta un motore Kubota 4 cilindri, stay 5 da ben 38 HP, raffreddato a liquido. Versatile perché la macchina può montare sia un piatto da 60 pollici o 72 pollici che possono essere o a scarico posteriore o a scarico laterale. Come optional possiamo avere anche il kit mulching. Oltre ai due piatti di taglio si può montare un trincia, un Tec Special 1.6 HD da centimetri 160 e tanti altri accessori sempre montati anteriormente. Sul lato destro della nostra macchina troviamo il pedale del freno, poi più in basso troviamo il nostro monopedale per l'avanzamento idrostatico, dopodiché ci spostiamo un po' più centralmente sulla macchina e troviamo la leva nera che non è altro che l'alzata e l'abbassata del piatto, la leva arancio che sono le due gamme di velocità della nostra trasmissione idrostatica e passiamo alla leva gialla che è l'inserimento della presa di forza. Sul lato sinistro della macchina troviamo il pedale del bloccaggio del differenziale e la leva dell'inserimento o disinserimento delle due o quattro ruote motrici. Ora passiamo al cruscotto dove sul lato sinistro troviamo il pulsante verde che è per l'accensione delle luci, la nostra leva di colore arancio che è il nostro acceleratore a mano, sul lato opposto troviamo la leva nera che è per la regolazione del volante, la chiave per l'accensione, i due pulsanti per la rigenerazione della macchina e la leva arancio che non è altro che il freno a mano della macchina. Al centro del nostro cruscotto troviamo un monitor lcd con l'indicatore di livello del carburante, l'indicatore di temperatura dell'acqua, il contaore e il contagiri e il misuratore di tensione della batteria. Seguiteci sul nostro sito google.it e sui social e mi raccomando mettete un mi piace